20.50 GBJ Radio il vostro Dark Chess DJ, ben sintonizzati, benvenuti in questo nostro 8 febbraio 2021 lunedì apriamo la settimana, una settimana molto importante, siamo partiti subito alla grande oggi pomeriggio ma parleremo dopo dell'intervista con Massimo Cotto concentriamoci ora sulle tre band o artisti da proporre al nostro carissimo pubblico iniziamo con Simon Talbot, uno che abbiamo già proposto, lui è un solista, ha una band suona negli Hello Band, lui inglese, londinese precisamente, è un cantautore ha scritto oltre mille canzoni e vi posso dire che veramente ha scritto talmente tante canzoni che spesso e volentieri me ne spedisce e io metto tutto in archivio ci ascoltiamo Letting Time Decide a GBJ Station, Simon Talbot Grazie a tutti 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 e a tutti Grazie 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 a tutti E a tutti Grazie 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 a tutti In questo Grazie a tutti 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 Buon Grazie a tutti 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 con questo Grazie a tutti 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 Man song Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Monson Grazie a tutti 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 con questa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti